Ad ogni modo, torniamo per un attimo a parlare di news, perché anche questa settimana siamo riusciti ad avere in collegamento con noi l'opinionista e giornalista dottoressa Eugenia Scartabicocchi. Buongiorno dottoressa, mi sente? Sì, buongiorno, 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 buono, buono detto! Dottoressa, ma che cosa succede? Scusate, ma il mio cane oggi è ingestibile, continua a fare i capricci, Monello! Ha un cane di nome Giorno? Sì, guardi, me l'hanno regalato, secondo i miei figli è molto fotogenico, volevano chiamarlo Dey. Dey chi? Sì, i miei figli volevano chiamarlo Dey, ma a questi gli inglesismi non piacciono. Oh madonna, no, ho capito, Dey come Giorno d'Inglese, vabbè, vabbè, insomma, la storia è molto interessante come sempre. Sì, è una storia interessantissima, che ho raccontato nella canzone Dey, Un giorno perso. Ah, avevo scritto una canzone, non sapevo che avesse anche questa passione. E chi sono questo gruppo, Un giorno perso? Non l'ho mai sentito? No, come sempre lei fraintende. Io, vabbè. La canzone si chiama Dey, Un giorno perso. Ah, Dey, sempre l'inglesismo, ho capito perché Dey è il cane, ok. Va bene, senta, ha saputo che qualche settimana fa un uomo ubriaco che si era perso ha aiutato i ricercatori a trovare se stesso. E si la rant, come può vedere i ricercatori continuano a essere il motore del nostro paese. No, ma non c'entra niente, erano in Turchia. Esatto, aiutando l'economia globale al rinascere anche quella turca. Ma la smetta. Come si dice in questi casi, strade difficili portano a destinazioni bellissime. Ah, che belle parole. A meno che tu non sia un miliardario su un jet privato. Sì, non credo che finisse così la forisma. Comunque... Sa cosa le direbbe il mio amico a Ginolfo? A Ginolfo. Non contarlo come errore se quando l'hai fatto ti brillavano gli occhi e ti batteva forte il cuore. Ma che fortuna avere un amico così. Potremmo invitarlo qua in trasmissione adesso. Eh, mi dispiace, ma al momento è in galera per spaccio. Ma come è in galera per spaccio? È sempre sotto stupefacenti, per quello aveva quei sintomi forse. Adesso è tutto più chiaro. Comunque ha delle frequentazioni un po' singolari. Uno spacciatore a Ginolfo non l'avevo mai sentito. È un bravissimo uomo, sa? Io gli dico sempre quello che una volta mi disse il mio amico Apponio. L'Apponio. Quando una porta si chiude, spesso se ne apre un'altra. Sì, vabbè, io lo sapevo col portone. A meno che non si chiudano le finestre, per evitare che ci sia corrente. Ma non era così, dottoressa, non era così.